ciao a tutte ragazze ciao a tutti nuovo video make up beauty del giorno allora non faccio vedere niente però vi dico i prodotti che ho utilizzato allora ho utilizzato il sopix extra spice sempre gli stessi colori dell'altro nell'altro video poi il correttore della infallibri l'oreal 327 cashmere poi ho utilizzato il mascara sempre lo stesso e poi ho utilizzato anche il fondotinta della essence nulla di che tra l'altro tra un po come strucco infatti qua ho un sacco di prodotti ho la mia acqua micellare e le mie dischetti struccanti della fior di magnolia dell'euro spin più il mio mi sono uniti di specchietto perché tra poco mi strucco nel frattempo mi sto guardando michela di maio la mia youtuber dico preferita ma lo sta per diventare perché mi piace troppo seguirla ed è troppo verava e non voglio dire che la migliora ma per me è la migliore in assoluto tutti siamo tutte le altre che seguo poi cos'ho utilizzato a oltre la mascara l'illuminante della highlighter makeup revolution e poi ho utilizzato anche come il bronzer come al solito e bronzer della rimel e ho utilizzato anche un lip gloss della makeup revolution tutto quanto lì tutto lì quello che ho utilizzato null'altro come burro cacao sotto al lip gloss utilizzato labrosan labrosan spf 15 tutto lì ragazze null'altro poi come blush fatti di pensare a quello della rime l'ho utilizzato ma poco poco un accenno adesso se l'ha dato un po via è rimasto un po di bronzer ma tanto troppo adesso basta che chiudo il video e andrò su e su e a struccarmi come sul dice come sul dire a napoli su e su e a struccarmi bene ragazze allora ci ho messo quanti minuti due minuti per parlare solo di questo video niente ragazze a mio messo questo smatto qui della che cos'è questo aspettate un attimo nei mai né il polish no nei scusate che la team plus questo qua sarebbe non si vedrà mai la mazza aspettate che mi metto alla luce che luce poi non è tanta vabbè sta per diluviare tra poco vabbè allora lo smalto per non farla troppo lunga e questo e mi piace da morire è bellissimo se avete sentito un po storte ma vi sto tenendo con il braccio con un'altra mano sinistra e quindi ballate un po ma non importa ragazze mie allora buona vita a tutte se questo video vi è piaciuto mettete un like di supporto un commento qua sotto e grazie ancora di cuore ragazze e ragazzi ciao a presto un bacio quanto ci ho messo bu non lo so non ne ho idea comunque niente ragazze ciao comunque ero appena tornata mattalena sta oggi sono andata mattalena vabbè dettagli niente ragazze ciao ciao